Ma cosa volete voi del Torino? Torino è solo bianconera, non sarà mai vostra, Torino è da sempre bianconera, da quando è stata fondata la Juventus, e che diamine! Grazie all'arbitro per esserci stato d'aiuto, mi raccomando, grazie perché fischiavi molti falli a nostro favore, è stato un po' un arbitraggio del cavolo. Comunque abbiamo vinto, bel gol di Alessandro, grande assist di Bernardeschi, contenta che Di Bala sia tornato in campo, è andato vicino anche al gol di 3-0, e mentre riguarda Iguain spero di vederlo presto in campo, perché è uno come lui ci serve sempre. Detto questo, fino alla fine, forza Juve e Torino è sempre solo bianconera, e sempre in seguimento del Napoli. Ciao!